Ciao a tutti, in questo tutorial vi spiegherò come usare un effetto particolare molto carino dell'Edison che potrà essere usato nelle basi, solitamente viene usato nelle basi Hardstyle o Electro House o House però dove sta bene può starci, e anche come poter modificare il Z3TA che è un VST a parte con FL Studio cioè bisognerebbe comprarlo a parte, ovviamente questo è craccato e si potrà trovare su Youtube scrivendo download Z3TA cliccheremo su uno dei video che troveremo andremo nella descrizione del video e troveremo il link dove poterlo scaricare e questo VST appunto è a parte con FL Studio e vi spiegherò come poterlo modificare in modo da creare un effetto che può essere utilizzato nelle basi Trans, House, Electro House, Hardstyle ecco, allora intanto iniziamo con Edison e allora qua lo chiudiamo perché non ci serve ovviamente la cartella da dove prenderò il file vocale è una cartella a parte cioè praticamente io l'ho scaricata e nel prossimo video vi spiegherò anche su richiesta di molti utenti di Youtube come installare e anche di conseguenza come scaricare una cartella da Youtube e vi spiegherò anche come installarla e adesso vi faccio vedere come usare questo effetto di Edison allora lo metteremo sulla playlist lo apriremo e intanto lo cloneremo allora clone si può fare soltanto se si possiede la versione completa cioè FL Studio XXL quindi la versione completa di FL Studio non si può fare con la versione demo quindi faremo clone e quindi cloneremo il nostro file sul nostro secondo file lo apriremo apriremo Edit, cioè Edison lo terremo aperto perché ci servirà in seguito dopodiché potremo selezionare una parte di... non tutto ovviamente una parte di file vocale dopodiché una volta selezionata la parte che vorremo apriremo Tools e cliccheremo su Blur allora questa onda dovrà essere posizionata a destra spostata a destra dopodiché cliccheremo per sentire un'anteprima del nostro effetto su Preview perfetto cliccheremo su Accept se il suono ci piacerà e sentiremo che l'effetto sarà stato... cioè il file vocale sarà cambiato dopodiché cliccheremo di nuovo su Tools e cliccheremo su Fade In e questo aggiungerà un ulteriore effetto al nostro file vocale dopodiché cliccheremo e terremo premuto su questo tasto e potremo trascinare il nostro file vocale modificato sul nostro secondo file cioè quello clonato sentiremo che sarà cambiato dopodiché lo potremo mettere sulla playlist e sentiremo come sarà venuto ok ok direi che è venuto abbastanza carino e questo era una parte del video allora adesso vi mostrerò come poter modificare il Z3TA in modo da creare un effetto che si può mettere, ripeto, nelle basi trans, house, hardstyle diciamo quel genere lì nel genere house allora quando apriremo Z3TA avremo questa schermata qua e sarà selezionato il tasto A noi dovremo andare sul tasto C cliccheremo su questa freccetta ci si aprirà questa schermata e dovremo cliccare su commercial trans ovviamente tutti questi saranno dei suoni che saranno presenti in Z3TA in tutto questi suoni se cliccheremo sul tasto destro li avremo tutti però per facilitarci le cose noi andremo a cliccare su questo su questa freccetta e andremo a selezionare commercial trans andremo a sentire che suono avrà già il suono in sé è molto carino allora andremo ad affibbiarci una melodia scusate un secondo ok metteremo potremmo mettere i nostri bpm a 150 una melodia arrangiata allora allora intanto in queste sezioni potremo modificare il nostro suono come vorremo se cliccheremo su shaper spero che si pronunci così andremo potremo modificare a nostro piacimento il suono e poi tutte tutte le varie modalità tutti i vari tipi di effetti ve li potrete andare a sentire voi allora ovviamente in Z3TA le funzionalità sono un casino sono moltissime quindi io non ve le potrò spiegare tutte in neanche dieci minuti quindi vi andrò a far vedere la sezione effects quindi una volta aperto Z3TA avremo questa schermata dovremo cliccare su effects e andremo a sentire qui in questa in questo rettangolo qui sentiremo che Z3TA ha già di suo un delay che andremo a trovare in questa sezione qua dove ci sarà scritto ovviamente delay il delay si potrà togliere cliccando su questa freccetta e cliccando su off oppure cliccando semplicemente col tasto destro col tasto sinistro fino a quando non andremo a trovare la sezione off e adesso ecco sentiremo che il Z3TA ha anche un reverb lo ovviamente anche questo lo potremo andare a togliere cliccando nella stessa modalità su off oppure sempre col tasto destro sinistro allora poi vabbè in qui avremo un sacco di effetti da poter dargli e qui magari gli ridiamo il suo reverb e il suo delay ok allora va bene bene qui gli potrete dare degli effetti che vorrete potrete modificare questi effetti attraverso questi vari mixer che ci saranno qua il mixer per il delay l'equalizzatore l'equalizzatore il mixer per il reverb e il mixer per il modulatore per questo video è tutto vi saluto al prossimo video dove spiegherò come installare come installare e come scaricare le cartelle dentro i suoni da youtube e anche come collegare degli strumenti a FL studio come ad esempio una chitarra o un piano o un microfono anche se il microfono l'ho già spiegato allora per oggi è tutto iscrivetevi al mio canale ciao